Come ti chiami? Mi chiamo Suanetumani. Quanti anni hai? 34 anni. 34 anni? Sì. Mi dicevi che sei ospite a Ponte San Giovanni? Sì. E ora stai collaborando col comune per fare questi lavori volontariato. Quando sei arrivato in Italia? Io sono arrivato il 26 maggio. Di quest'anno? 2016. Quindi da poco più di un anno? Sì, un anno sei mesi. Un anno quattro mesi. E come hai imparato l'italiano? Da solo? O hai fatto qualche scuola? Io ho fatto scuola. Sempre col centro che ti ospita, con la comunità che ti ospita? Sì. Ti piace questo lavoro? Sì, sì. Mi molto piace. Io molto piace. Io mi piace molto. Come mai sei venuto in Italia? Italia è un bel paese. Ancora io mi piace molto l'Italia. Quindi vuoi rimanere qui? Sì. Vuoi cercare un lavoro qui o rimanere qui? Sì. Io voglio rimanere qui. Sei da solo o hai famiglia? No, io solo. Ma lì nel tuo paese hai famiglia? Sì. Mogli e figli? Sì, mogli e figli. Quanti figli? Due figli. Ho capito. Vi scrivete? Vi telefonate? Sì, sì, io ho telefonato. Anche ieri io ho parlato a mia moglie e anche a mio figlio. Cosa facevi? Cosa facevi in Senegal? In Bianchino. Ah, quindi facevi questo lavoro? Sì. Quindi lo sai fare bene? Sì. Ok, buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.